Musica Esprimi il tuo malessere, sei un po' patetico Dettare leggi come fossi un politico Col tuo computer su internet Mettiti comodo Con tanti idioti come te Ciao a tutti, sono sempre io Emily Pigeon Love E oggi siamo in un nuovo video Allora, faccio breve questo video per dirvi Visto che in questi giorni cambio moltissimo la mia intro Vi volevo chiedere Preferite che faccio una nuova intro Che questa volta a me la tengo, non la cambio più Mai più Una intro con le clip Che forse sarebbe anche più bella Oppure lascio quella che ho Cioè quella che ho messo prima Cioè decidete voi, va bene ragazzi? Ok Quindi se il video vi è piaciuto come alzare Dove mettete il like Se non siete iscritti Iscrivetevi a questo canale E ciao! Ciao!